Seconda sconfitta consecutiva per la spalla e avvisaglie di crisi più che per i risultati per l'involuzione di un gioco che nelle ultime due gare molto raramente ha prodotto azioni pericolose. Anche a Lucca giornata di assoluta tranquillità per portiere e difensore avversari nonostante la squadra di Sassarini abbia giocato in superiorità numerica per un tempo abbondante. Toscani in gol dopo sette minuti con Canalini, quinta rete stagionale, pronto ad approfittare di un'indecisione del pacchetto arretrato ferrarese al completo, compreso Gallo. In precedenti circostanze, più reattivo. Una volta in vantaggio, la lucchese facilitata dalla manovra lenta e priva di fantasia degli Spallini era tempestiva nel chiudere i varchi sbarrando la strada e i rifornimenti per l'isolato Rocchi, puntualmente bloccato dalla coppia Spesce e Carli, insuperabili nel gioco aereo, anche quando sulle palle inattive i ferraresi portavano in avanti l'artiglieria presante. L'unico a provarci era Marchini, ma sulla sua conclusione dal limite al diciannovesimo era attento Casapieri. Spalche ruminava calcio e lucchese che puntava sul possesso palla grazie alle doti tecniche di Chianese, all'ordine garantito da Redomi e da qualche sfuriata di Canalini. Toscani anche più pericolosi, con conclusioni di poco fuori bersaglio di Pecchioli al ventottesimo e Chianese al trentottesimo. A tre minuti dall'intervallo, l'episodio che avrebbe potuto cambiare volto al match secondo Giallo e conseguente espulsione per Aliboni. Spalco l'uomo in più, ma mai lucida e priva di riferimenti sul fronte offensivo, anche perché Sassarini decideva di togliere Rocchi a rischio infortunio dopo i problemi muscolari delle scorse settimane. Ferraresi capaci solo di mantenere iniziative e creare mischie come quelle che hanno portato ad una conclusione di Laurenti indeviata in angolo d'Espace al sedicesimo e da vibranti proteste per un tocco con un braccio di Redomi giudicato involontario dal direttore di gara. Per il resto, arrembaggio, privo di idee e convinzioni e unica conclusione al novantesimo di Marongio, su punizione utile solo per far far bella figura al giovane Casapieri. Per la Spal precipitata a 6 punti dalla vetta della classifica, prime sentenze. I 94 sono inadeguati, senza veri attaccanti il gol sarà sempre una chimera e se non si troverà in modo di alzare i ritmi il futuro non si profila a Rosio, anche se nel girone, presi in esame i risultati di ieri e vista l'opera la lucchese, non sembrano esistere vere e proprie corazzate.